ciao sono william bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio mostrare questo infisso in acciaio a taglio termico con vetro extra chiaro è una soluzione molto trasparente molto isolante e molto sicura completamente customizzata su misura come ad esempio questi profili super slim presenti qua come elementi taglia vetro come la zanzariera integrata scomparsa e integrata nell'infisso stesso nel montante e come anche la serratura di sicurezza integrata in questo elemento in acciaio tutto nero opaco una particolarità di questo tipo di infisso è che siamo riusciti a farlo operire completamente a integrare una zanzariera a fare un infisso blendato un infisso luminoso e un infisso molto termico e senza avere nessun tipo di inciampo pavimento ciao e al prossimo video